La nuova borsa OMS Mesh è dotata di una tracolla, due maniglie superiori e una laterale, per portare facilmente la tua attrezzatura subacquea in qualsiasi parte del mondo. Ora, con un'apertura a forma di U e una capacità di 111 litri, puoi portare tutto il tuo kit e altro ancora. Realizzata in resistente nylon 420 denari, questa borsa incorpora anche pannelli in rete di nylon rivestiti in PVC nella parte sottostante e lungo i lati per un eccellente drenaggio. All'interno c'è una tasca con cerniera laterale e ampio spazio per muta, stagna, schienalino e sacco, maschera, pinne e altro ancora. Questa borsa è davvero robusta e ideale per tutti. Per maggiori informazioni visita la nostra pagina web, il nostro canale YouTube, le nostre pagine Facebook o Instagram.